Ragazzi, che si fa a stradere? C'è il giorno? Ehi, è il giovedì. Oggi, è il giovedì. Oggi andiamo a guardare. C'è il radio? Un radio? Un radio un po' al sole. Un radio un po' al sole. Ma che cosa è? Un po' da cosa? Metti in su. E allora che ora? Dall'edì in giro e dalle mele. Ma ora andiamo a ascoltare la guardia. Siamo a sottolineare il sud. Un video un video. Un video. Ok. Un video. Un video. Grazie a tutti